Esclusiva, elegante, spettacolare, così come spettacolare l'evento ideato e organizzato dalla wedding planner e wedding designer Barbara Vissani per presentare al pubblico e alla stampa Villa Baldacchini. Un programma ricco, ricchissimo di iniziative, quello voluto da Barbara Vissani per il Vindener qui a Villa Baldacchini. Dopo l'arrivo della sposa infatti vedremo la pattuglia acrobatica che sprigionerà un candido fumo bianco nel colore del wedding per eccellenza. Il rumore alle mie spalle perché sta per atterrare la sposa ma le sorprese non saranno finite qua perché dopo la pattuglia acrobatica ci sarà un cocktail, la cena e infine ancora tanto tantissimo spettacolo, seguiteci. Ecco, la sposa è atterrata, sta per uscire dall'elicottero e noi la seguiremo verso il luogo in cui si festeggerà la cerimonia, il ricevimento. Lei è bellissima nel suo abito, una creazione interamente in tulle e pizzo di la Via en Blanc atelier. Le va incontro il suo sposo che indossa una creazione di carosi, settoria carosi. Insieme si... la sposa lo prende sotto braccio e si dirigono verso il luogo dove si svolgerà la cerimonia. Stanno per avviarsi all'altare gli sposi, bellissimi, felici e innamorati come tradizione vuole. Eccolo le pattuglie, eccole le pattuglie acrobatiche che sfrigionano il fumo bianco. Sono appena passate sopra il nostro testo. Stanno per avviarsi all'altare gli sposi, bellissimi, 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 bellissimi. Stanno per avviarsi all'altare gli sposi, bellissimi, 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 bellissimi. Stanno per avviarsi all'altare gli sposi, bellissimi, 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 bellissimi.